Massimiliano Fedriga, lei si è arrabbiato molto con i vertici della Camera dei Deputati, perché? Perché è indegno che la Presidenza della Camera non abbia previsto un momento durante i lavori odierni per il giorno del ricordo. È indegno che i deputati non avessero potuto esprimere la loro opinione su un dramma che hanno vissuto le nostre terre, le terre di tutto il confino orientale, con migliaia di morti e 350.000 esuli scappati dalla loro terra. Fortunatamente, grazie alla pressione della Lega che ha esercitato in aula, la Presidenza della Camera ha ritenuto di inserire nel calendario moderno questo momento e ci auguriamo che non ci siano più questi scivoloni, perché non sono un'offesa verso la Lega, sono un'offesa verso un dramma che hanno vissuto le nostre genti e che purtroppo per troppi anni è stato dimenticato, anzi volutamente cancellato dalla nostra storia.